ciao a tutti qui dall'accademia del fotocalcio sono abel alves e in questo video ci prepareremo per la dodicesima giornata di campionato di serie a il campionato secondo me è più interessante insieme alla premier league quest'anno un campionato che ci sta sorprendendo tantissimo e andremo a vedere insieme qua le probabili formazioni e anche la formazione migliore possibile che puoi mettere in campo quindi chi schierare andiamo a vedere subito le formazioni eccole qua eccola qua la formazione migliore che puoi schierare in questa giornata di campionato leggiamola insieme questo algoritmo di questa applicazione fantahelp ci sta dando una mano grossa anche a fare questi video perché sono molto d'accordo sulle scelte che avete qui davanti agli occhi perché abbiamo Stracoscia che sta facendo molto bene con la Lazio e che giocherà in casa contro il Lecce quindi è molto probabile che faccia veramente bene Gosens, Manolas, Milenkovic difensori che stanno facendo un campionato eccellente anche se Manolas con il Napoli insomma il Napoli sta assumendo un po' di gol però Manolas gioca sempre bene Centrocampo, Gomez, Sensi, Alberto, Luis Alberto, Pjanic Berardi che è un attaccante trequartista Immobile e Muriel una squadra secondo me che può segnare tanti gol e può fare veramente bene con un voto complessivo medio di 87 quindi sappiamo che se mettiamo questa squadra qua abbiamo il potenziale di fare in ogni giornata 87 punti che non sono pochi vediamo adesso le probabili formazioni andiamo a vedere dal sito Fanta Calcio possiamo scegliere qua anche Sky Sport e Gazzetta dello Sport ma iniziamo dalla prima partita quindi dalla partita di venerdì 8 novembre alle 20.45 Sassuolo-Bologna entrambe le squadre non stanno facendo un campionato brutto diciamo così il Bologna sta facendo anche un bel campionato ha iniziato molto bene adesso sta diciamo crollando un po' anche perché ha difficoltà in difesa alcuni infortuni come Tomiyasu e Dix o Dykes che è un giocatore molto interessante olandese e Tomiyasu fino adesso ha fatto molto bene questo giapponese che è una delle sorprese del campionato ma che rientrerà presto il Sassuolo ha perso adesso Traoré che è andato a fare la Coppa d'Africa ma si ritrova comunque con un centrocampo e un attacco speciale perché Boga in attacco sta facendo un ottimo anche lui un'ottima sorpresa sta facendo molto bene Caputo è una sicurezza ormai della Serie A è vero che non è un giocatore di esperienza ma in Serie A questa è soltanto la seconda stagione ma sta facendo molto bene Berardi è un giocatore incredibile che non ha la costanza di altri giocatori ma quando è in giornata sappiamo che segna tanti gol Duncan è ritornato a buoni livelli Locatelli ex Milan non sta facendo male Magnanelli un po' vecchioto ma saprà difendersi anche in questa giornata qui quindi vi consiglio questo l'attacco del Sassuolo e perché no anche l'attacco del Bologna perché Palacio o Santander quando non c'è uno c'è l'altro e stanno segnando sempre vi consiglio anche Sansone che secondo me si sbloccherà e Orsolini che è un ottimo giocatore seconda partita sabato il 9 di novembre alle ore 15 Brescia-Torino abbiamo una partita strana perché perché il Torino è un'ottima squadra se guardiamo sulla carta ma adesso è un po' in crisi di risultati anche se ha secondo me una delle migliori erosi della Serie A sicuramente da Europa League per me però poi in campo purtroppo non riescono a giocare nel migliore dei modi il Brescia invece ha cambiato allenatore da poco è arrivato grosso e ha un attacco interessante un centrocampo che dà sicurezza perché ha bisoli tonali che sono giocatori che non hanno tantissime esperienze ma sono il futuro dell'Italia e quindi riescono a difendersi bene la difesa è un po' incasinata perché ha Cistane che è una rivelazione che sta facendo bene ma Gastaldello secondo me non sta facendo un ottimo campionato dal mio parere personale e anche Sabella e Mateio non mi convincono tanto quindi vediamo cosa farà grosso in fase difensiva ma Ballotello e Donnarumma sono un'ottima coppia di attaccanti Bellotti sta deludendo ma in questa partita secondo me può fare molto bene Inter Verona beh qui sappiamo che l'Inter è favorita qualsiasi giocatore dell'Inter secondo me va bene Lukaku e Martinez davanti stanno facendo bene Bilaghi insomma è un po' in difficoltà abbiamo visto anche nella partita in Champions ma contro il Verona forse con il Verona che non è una squadra a livello di Champions potrà fare molto meglio poi Brozo dicevo Barella vabbè loro sono molto bravi e sono una sicurezza ma anche la difesa possiamo stare tranquilli il Verona invece è un giocatore che mi piace molto e che ho anche scelto come un underdog cioè una delle sorprese del campionato e si chiama Zaccagni che gioca come un attaccante ma è segnato come un centrocampista lui lo metterei in campo di sicuro Amrabat sta facendo un'altra campionato ma perché no anche Faraoni e Lasovic non stanno facendo male e quindi questi giocatori li potrei metterli in campo tranquillamente Napoli-Genoa beh un partito molto interessante in Napoli un po' di casino a livello di spogliatoio non sono andate di tiro un po' di casino con Ancelotti ma penso che in questa partita tranne se succedono cose strane appunto a livello di squadre che non lo so fanno dei casino loro il Napoli è favoritissima e potrà battere il Genoa secondo me anche con molta tranquillità perché il Genoa ha una difesa un po' ballerina anche se da quando c'è Tiago Motta sono migliorati ma la difesa purtroppo non è il punto di forza hanno perso anche un giocatore interessante per la Coppa d'Africa che è Kwame che non ci sarà infatti sarà Agudelo che non mi convince per niente zero zero proprio e anche Saponara secondo me non mi sta convincendo quindi stare attento a mettere in campo in questa partita specifica i giocatori del Genoa per il Napoli invece penso che tutti siano tutti bravi e schierabili tranquillamente Cagliari Fiorentina entrambi le squadre stanno facendo bene Cagliari fantastico rivelazione non ha mai fatto così bene Serie A da tantissimi anni anzi non ha mai fatto così bene Nainggolan si è ripreso forse lui è un giocatore adatto a una realtà del genere piuttosto che un Inter ma perché no anche la Roma Simeone si è trovato da Dio hanno una difesa buona buona ma un centrocampo fortissimo perché insieme a Cigarini Rogna Nainggolan mettiamoci dentro anche Castro e Nandetz che è un motorino un giocatore fortissimo il Cagliari sta facendo un ottimo campionato la Fiorentina si un po' ballerina Castrovilli però sta giocando bene lo mettono in campo di sicuro Chiesa lo stesso speriamo che il rientro di Ribery perché stava facendo bene possa aiutare ancora di più la Fiorentina Milenkovic uno dei migliori difessori della Serie A se non il migliore per i punti che sono ma Pulgar ci può abbattere i rigori Badel ha molta conoscenza della Serie A non ci metterei solo in campo D'Albert non mi convince mai non mi piace ma Boatengi Chiesa lo metterei di sicuro in campo Lazio-Lecce qui della Lecce metterei di sicuro Mancoso che mi piace e sta facendo bene e basta non metterei nessun altro forse Falco forse Falco lo potrei mettere in campo ma se ho altre scelte meglio mettere le altre scelte che ho Lazio invece da Lazari in poi ci vado tranquillo a Cerbi poi lo conosciamo bene la sicurezza Sadracocia in questa partita secondo me può far bene perché non prenderà gol e sta facendo un ottimo campionato quindi la Lazio è favorita Sampdoria-Atalanta invece l'Atalanta diciamo che nell'ultime partite un po' così così dopo le vittorie dopo i 7 gol all'Aldonese ha perso qualcosa in Europa non ha fatto molto bene che si è riuscita a pareggiare con il Manchester City quindi la vedo comunque favorita anche se la Sampdoria ultimamente si sta riprendendo e anche sta giocando più da squadra ok sulla carta sono quelli che sono è una squadra che è destinata secondo me alla Serie B vedremo se a gennaio arriveranno altri giocatori se la società cambierà qualcosa vedremo un po' sono molto a rischio quindi starei attento con i giocatori della Samp dell'Atalanta invece il Gosens fantastico miglior difensore insieme a Milenkovic Malinovski una sorpresa incredibile anche lui bravissimo poi Gomez una sicurezza anche lui e Muriel sta facendo molto bene visto che Zappat è ancora fuori Uldinese Spal qui non capisco bene una partita insomma che non riesco a leggere bene chi è favorito e chi no in campo ci metterei Okaka Nettorovski che ha sbagliato qualche gol ma lo metterò in campo e adesso si è ripreso anche De Paul De Paul che è un giocatore secondo me molto interessante anche per una squadra una grossa squadra di Serie A una delle big che non stava facendo un ottimo campionato ma che si è ripreso un po' nell'ultima giornata e forse non era in forma anche a livello mentale si doveva sbloccare speriamo che sia così per il proseguo del campionato Spal invece metterne in campo di sicuro Kurtic che mi piace molto non sta facendo una statura meravigliosa ma ci può regalare un gol un assist di sicuro anche in questa partita qua Parma-Roma questa partita qua secondo me sarà quella con più gol perché gli attacchi cioè l'attacco della Roma e l'attacco della Parma sono in formissima leggiamo i nomi Kulusevski Cornelius Gervinio contro Pastore Klaiver Gekko ma nella Roma sappiamo che anche Zaniolo ti può segnare ti può fare un assist perché è il miglior cacciatore adesso ve lo confermo per me è il miglior giocatore italiano della Serie A anche se è giovanissimo anche se devi imparare molto per me è il miglior giocatore italiano della Serie A quindi è una partita apertissima non metterei i portieri perché secondo me ci saranno tanti gol ma non so chi potrei escludere qua forse Dermacu forse non lo so Fazio che non mi sta convincendo ma tutti gli altri anche i difessori per esempio Darmian un Pezzella un Kolarov Spinazzola ma anche Smalling possono segnare quindi non escludere nessuno qua se hai un giocatore di queste due squadre metteli in campo perché faranno bene Juventus-Milan ho letto oggi che Benassera insomma ha dichiarato che Milan può battere alla Juve sono un po' scettico sì ha poche probabilità di farlo però perché no se ci credono se ci impegnano ci può essere anche questa minima possibilità ma la cosa importante per il Milan è crederci perché loro sono proprio a livello mentale bloccati perché se guardiamo la squadra sulla carta non sono una squadra da Serie B cioè non sono una squadra da appunto lato destro della classifica come sono in questo momento specifico del campionato quindi sarà una partita durissima per il Milan della Juve più che favorita ci metterei qualsiasi giocatore perché tutti possono segnare anche quelli che vengono dalla panchina come Bernardeschi come Bentancur come Douglas Costa come Higuain sono giocatori che li metterei lì comunque perché se entrano possono segnare del Milan non metterei difessori ma da benassere in poi li metterei tutti perché anche loro sono facendo bene e anche Cena Loglu che non mi piace come cacciatore mi sta sorprendendo ed è uno dei migliori al Milan bene per oggi per questa giornata basta così ci vediamo alla prossima giornata di campionato e per altri video qui sul canale mi raccomando se ti è piaciuto questo video metti un like lasciaci un like seguici e ci vediamo presto al prossimo video un abbraccio a tutti ciao